Questa tappa in questo luogo meraviglioso Ballet de Vars è una tappa preparatoria per quello che sarà. Per cosa vuoi aiutarvi e a cosa sarà questa? Guarda, essere qui a quest'evento Che è Cristobal che lo ha scritto Allora prima di tutto io voglio che noi orgliamo la sua memoria Ci aiuterà più di ogni altra Noi stiamo a fare la domanda pubblicamente, quindi non si può fare la domanda Passata, potrebbe se stessimo tante ore anche caderci la bava, però non staremo tante ore Noi stiamo a fare la domanda pubblica 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 Noi stiamo a dare le due Il leone è la creatività, è la sessualità, è la gioia. Il leone è la gioia. Il leone è la gioia.